mi dica cosa saluta è pronto il caffè questo va dritto in rete noto stanno lì si questo è comunque il caffè di caffeinato non ho parlato del bernichello perché sono disoppensionato fa così io e mamma ci andiamo a mangiare la pizza stasera quindi ti accompagniamo noi c'è un locale a mentura vogliono vedere se chi è già preso